Francesco Monte avvistato con Cecilia. La verità a Mattino 5. Valerio Staffelli, durante la consegna di un tapiro, ha visto l'ex naufrago sotto la casa della Rodriguez. Cosa bolle in pentola? Francesco Monte continua ad essere a centro del gossip, dopo aver spiegato sui sociali il motivo per cui si è ritirato dall'isola dei famosi, cioè per potersi tutelare dalle accuse che Eva Engerli ha rivolto riguardo l'introduzione della marijuana nelle reality, il giovane ex tronista è stato preso di mira da striscia la notizia. Il giornale satirico ha deciso di consegnare un tapiro d'oro a Francesco, proprio per via delle ultime vicende, che lo hanno visto protagonista. Durante la consegna, però, non è sfuggito a Valerio Staffelli, che Monte si trovava sotto casa di Cecilia, che è sfuggita alle telecamere entrando nel portone. Cosa sta succedendo tra i due? La verità è stata svelata a mattino 5. L'ex tronista visto sotto casa dell'ex fidanzata. Alessandro Basile, migliore amico di Francesco, è stato di nuovo ospite di Federica Panicucci. Come già era successo, il volto noto di uomini e donne ha difeso l'ex tronista, chiarendo i motivi per cui il giovane si trovava nei pressi dell'abitazione della sua ex. Secondo il Basile, striscia la notizia non ha lanciato nessuno scopo, infatti, Alessandro ha smentito le voci, che volevano Monte e la modella argentina impegnati in un incontro segreto alle spalle di Ignazio Mosè. L'incontro tra l'ex coppia sarebbe stato del tutto casuale e non voluto. Nello stesso palazzo in cui abita Cecilia abita anche uno degli agenti di Francesco, svelato dunque il motivo della presenza di Monte nella stessa via in cui è stata intercettata la Rodriguez. Tra i due, quindi, non c'è alcun ritorno di fiamma, come i più romantici pensavano. Tant'è che l'ex tronista, ai microfoni di striscia, ha smentito anche le voci, che lo volevano vincitore delle reality e poi pronto a riconciliarsi con la sua ex fidanzata. Inoltre, a verissimo Francesco non aveva nascosto la sua commozione parlando del messaggio ricevuto dalla modella prima di partire per l'Honduras, ma lo stesso Ignazio ha commentato sui social di essere a conoscenza di ogni azione intrapresa dalla sua fidanzata, per la coppia del GF di Pness una crisi all'orizzonte. Nessun ritorno di fiamma, solo coincidenza. Non tutti credono alla versione data da Alessandro Basile a mattino 5, ma a quanto pare non c'è stato alcun riavvicinamento tra Cecilia e Francesco. Monte, in questo momento è totalmente concentrato sulla sua immagine, il giovane, avvistato da poco in compagnia del padre, è rientrato in Italia per potersi difendere nelle sedi più opportune, riponendo la sua fiducia nella giustizia. Ed Angel continua a lanciare pesantissime accuse, ma tutto è ancora da provare. Nel frattempo, l'ex tronista ha trovato rifugio nella sua famiglia e negli amici più cari, Dai Social ha fatto sapere il suo punto di vista su tutta la spinosa questione, per il resto il giovane sta cercando di tenersi in disparte, Così come aveva fatto anche quando era stato lasciato il diretta durante il grande fratello VIP. Una cosa è certa, tutta la questione pare ancora molto lontana da una possibile risoluzione definitiva.